Quelle pietre sono vere, come le hanno trovate? Che è successo? L'avete rischiato? La piovra era veramente spaventosa. La piovra? La piovra? Sì, era molto pericolosa. La cosa più pericolosa è stato camminare sulla passera. Camminare sulla passera? Sì, e quando abbiamo trovato la nave tirata... Nave tirata? Sì, e dentro c'era il tesoro dei pirati. Siamo stati inseguiti dalla panna, fratelli. Sentite, va bene, ora basta, ragazzi. C'è sempre stato un'altra, Lores. No, no, è vero. Questa volta ho detto tutta la verità. Sì, è tutto vero. Madre Santissima, ma che cosa sta... Ma che c'è? Guardate. Ma qual è la nave? Signore e signori, siamo a Caldron Point. Quella che vediamo sembra una nave pirata. Addio, Willy. Grazie. Grazie. Grazie.